Allora, mi chiamo Giusy e sono un'insegnante della scuola e anche la coordinatrice didattica. Normalmente insegno nel livello più avanzato. Allora, siamo tutti italiani e siamo tutti delle marche, siamo tutti delle marche, abitiamo tutti vicino Recanati. Qualcuno ha avuto anche esperienza in altri tipi di scuole, anche io ho avuto esperienza in altri tipi di scuole, però sì, la maggior parte hanno lavorato solo ed esclusivamente con gli stranieri. Diciamo che noi seguiamo un approccio comunicativo, così come i nostri manuali. Quindi una parte della lezione è dedicata alla competenza linguistica, quindi alla grammatica, alla correttezza formale, mentre gran parte della lezione è dedicata ad attività di vario tipo, sempre attività mirate a sviluppare le abilità sia produttive che ricettive. Cerchiamo di rendere le lezioni meno noiose possibile attraverso film, video, canzoni, eccetera. E non manca mai il gioco, sia per ripassare un argomento già visto, oppure per proporne, per introdurne uno nuovo. La mia attività preferita è sicuramente la conversazione, quando ci sono questi scambi proprio di cultura. Si parla moltissimo della cultura italiana, ma si cerca anche di parlare delle culture dei vari paesi di origine degli studenti. In classe si crea un'atmosfera molto serena, molto calma e un'atmosfera molto molto calorosa. E questo sicuramente rende questa scuola unica. Grazie a tutti.